Buonasera a tutti i telespedatori di Reflettore Su. Benvenuti a un altro appuntamento. Siamo qui in discoteca Eleven, un posto bellissimo e stasera festeggiamo tutte le vincitriti della Miss Vespa Club 2013. Vi aspetto tutti qui con noi. Il piatto forte, le belle ragazze. Buonasera a tutti i telespedatori di Reflettore Su. Buonasera a tutti i telespedatori di Reflettore Su. Devo dire che questa è una serata rispecchiando e festeggiando le nostre Miss. Sono le mie amiche. Lucia, di dove nasce questa entusiazione per organizzare questi concorsi di bellezza? Devo dire che questi concorsi di bellezza è la mia passione. Io lavoravo anni fa come gestivo il pubblico in Mediaset e anche in Rai tramite delle ditte in appalto. Avendo contatto con il pubblico è la mia passione. Amo le ragazze giovani, le brave ragazze, i ragazzi giovani che hanno voglia di crearsi e di diventare qualcuno. Per cui io le aiuto nel mondo pulito con tanta veramente volontà di fare e di crearsi. Dove sarà la finale di Miss Vespa Club 2013? Ah, qui mi hai preso un po' alla sprovvista. Allora, siamo in attesa di una conferma che forse la faremo a Courmayeur o altrimenti sul lago di Como. Perché il Vespa Club è in provincia di Como. Per cui lo gestiremo sul lago di Como oppure a Courmayeur. Qui è qui, con l'armi l'armi l'armi, l'armi l'armi l'armi, l'armi l'armi, l'armi l'armi. Fina questo concursa sarà accompagnata in un'impecchia in un'impeccionato o come, questo è Como. E' usbittura alla gente al massimo, buoni rambini, creare le piacere. E' usbittura tutto noi e dormite su questo concours. Eccoci qui con la grande sorpresa. Le belle ragazze, tutte Miss, tutte modelli di Lucia. Vi voglio presentare le vincitrici da Miss Vespa Club 2013. Iniziamo da questa parte. Anche Gloria. Uva Valentina. Eccoci qui, queste sono le modelle. Vorrei chiedere a questa bellissima ragazza che ho vicino, come mai questo, per fare la modella, per sfilare, cosa ti ha portato qui? Guarda, è un sogno che io ho sempre da quando sono piccola e finalmente adesso grazie a Lucia si sta riavvelando. È una cosa che mi è sempre piaciuta e io mi diverto molto, mi trovo molto bene col gruppo e quindi a me piace veramente tanto sfilare. Bene. Tu, Carola, cosa ti aspetti in futuro dalle sfilate? Beh, come tutti si aspettano di vincere, anche io aspetto una vittoria e poi, boh, chi sarà mai? Aspetto di andare magari in televisione se è possibile. Tanto andrai di sicuro, con riflettori su. Tu invece? Io sono per la prima volta qua e quindi spero che sarà tutto bene. Dai, forza a tutti perché siamo un bel gruppo, uniti e vorrei sentire la, diciamo, la più piccolina. Sembro piccolina. Guarda, mi piace tanto sfilare. Grazie a Lucia. Guarda, mi sto divertendo tanto, sto conoscendo tante persone che non me lo aspettavo. Sono tutte carine e simpatiche. Grazie Lucia. Le ragazze su, volete dire qualcosa? No, sono contentissima di essere qui con tutte voi e spero domani di poter stare tutti in televisione. Eccoci qui, quindi facciamo un bel saluto alla Lucia e a tutti i telespettatori e riflettori su. Buona serata a tutti e buon divertimento. E ora siamo qui, insieme con le ragazze, che giocano il concurs. Sono molto felice, che sono qui, sono felice, pensano di continuare a fare le ragazze. E siamo anche felice, che ci sono conosciuti. E tutti pensano che in futuro, qualcuno di loro vuole essere un modello, qualcuno di loro vuole, qualcuno di loro, qualcuno di loro. Io vi voglio piuttosto, vi voglio piuttosto, vi voglio piuttosto. Io credo che a tutti i loro avanti, bene. Ciao, 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 ciao.